Adesso all'associazione sportiva direttantistica, la ritmica Dinamo, le vedo già pronte per entrare su un parterre. Allora, si tratta di una scuola federale di ginnastica ritmica che ha sede proprio ad rossia. La ritmica Dinamo è un'associazione monosportiva che si dedica esclusivamente allo sviluppo e alla promozione della ginnastica ritmica sul territorio e le lezioni si infondono presso l'istituto paritario Giovanni Auro II. La ginnastica ritmica viene definita la regina l'emisport e quindi l'istruttrice ti invita a provarla per diventare una ginnasta come è lei e come probabilmente aspirano a diventare anche queste titolissime. Credo che sia tutto pronto, possiamo anche cominciare. Levo questa spada alta verso il cielo, giuro sarò roccio contro il fuoco e il gelo, solo sulla cima tenderò i predoni, arriveranno i molti e solcheranno i mari, oltre queste mura troverò la gioia, o forse la mia fine comunque sarà gloria, e non lotterò mai per un compenso, lotto per amore, lotterò per questo. Io sono un guerriero, veglio quando è notte, ti difenderò da incubi e tristezze, ti riparerò da inganni e maldicenze, e ti abbracerò per darti forza sempre, ti darò certezze contro le paure, per vedere il mondo oltre quelle alture, non temere nulla, io sarò al tuo fianco, con il mio mantello asciugherò il tuo pianto. E amore mio grande, amore che mi credi, vinceremo contro tutti e resteremo in piedi, e resterò al tuo fianco fino a che vorrai, ti difenderò da tutto, non temere mai. E amore mio grande, amore che mi credi, vinceremo contro tutti e resteremo in piedi, e resterò al tuo fianco fino a che vorrai, ti difenderò da tutto, non temere mai. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E da quando sai, la prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come mai, è entrata dentro e c'è restata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima, vivo per lei e non è un peso. Vivo per lei, anch'io lo sai, e tu non esserne geloso, lei è di tutti quelli che hanno un bisogno sempre acceso. Come uno stereo in camera, di chi è da solo adesso sa, che anche per lui, per questo, io vivo per lei. E' una musa che ci invita a sfiorarla con le dita, attraverso un piano forte, la morte lontana, io vivo per lei. Vivo per lei che spesso sa, essere dolce e sensuale, a volte picchia in testa, ma è un pugno che non fa mai male. Vivo per lei che spesso sa, essere dolce e sensuale, a volte picchia in testa, io vivo per lei. Vivo per lei che spesso sa, essere dolce e sensuale, a volte picchia in testa, io vivo per lei. Vivo per lei che spesso sa, essere dolce e sensuale, a volte picchia in testa, io vivo per lei. Vivo per lei che spesso sa, essere dolce e sensuale, a volte picchia in testa, io vivo per lei. E' un grande applauso per queste ragazze, abbiamo visto questa società con la guida tecnica di Darina Iaric che ci hanno offerto questo saggio di questa disciplina con tutti gli attrezzi, in particolare l'insegnante con il NASA.